Oggi diamo addio a Google Drive Ciao, sono Riccardo Romano di Hangout Marketing Italia e... hai avuto paura, eh? In realtà Google non ha minimamente intenzione di abbandonare questa fantastica funzionalità che è Google Drive Però, 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 c'è un però In realtà abbandonerà l'applicazione Google Drive per Hangout Quindi diciamo che direttamente, questa è una notizia fresca fresca di pochi giorni fa Direttamente dall'interno degli Hangout Google avvisa che Google Drive dal 15 dicembre 2014 Non avrà più la sua applicazione a sé stante per Hangout In realtà, però, ci sarà sempre modo di condividere i propri file perché sarà ancora più integrata all'interno degli Hangout Vediamo come Apro Google Drive Appena si fa partire l'applicazione Google Drive Appare questa finestra, che prima non appariva In cui Google avvisa che l'applicazione Google Drive negli Hangout se ne sta andando via Ma sta migliorando la condivisione dei link all'interno delle videochiamate Quindi dice che da dicembre, questo è il titolo, dice che quindi dal 15 dicembre 2014 Questa applicazione non sarà più disponibile Ma si potrà condividere qualunque link ai documenti o ad altre pagine web Dalla finestrella della chat Le istruzioni sono che per condividere un link basta cliccare sull'icona della chat E incollare semplicemente nella finestra della chat il proprio link Oppure cliccare su quella piccola iconcina del drive che è in basso a destra La vedi qui in fondo, nella finestra della chat Per selezionare un link direttamente dal drive Cliccando questo link aprirà il file o la pagina web in un tab del browser diverso Così puoi lavorare su di questo a pieno schermo E guardo come è stata finora la operatività Quindi vado sui miei documenti Posso decidere di caricare un file direttamente dal drive qui all'interno di questa finestra Per esempio carico questo security plot Seleziono Oppure potrei caricarlo direttamente dal computer Ecco che mi si apre In questo momento l'applicazione diventa a pieno schermo L'altra persona che è con me nel hangout Può semplicemente andare a leggere e a modificare assieme a me questo file che ho condiviso Vediamo di chiudere Da ora in avanti funzionerà così Vado qua in basso sulla destra Clicco su quest'icona del drive Oppure semplicemente come diceva nella finestrella di anteprima Basterà che io condivida il link della pagina nella chat Ma in buona sostanza si apre la stessa identica finestra Che si era aperta prima Clicco di nuovo su security per esempio E mi ritrovo sempre i miei file con il security plot Una volta che lo seleziono Non ci sarà direttamente il file nella condivisione qui Quindi mi rimarrà sempre l'altra persona da guardare diciamo Bensì apparirà nella finestra della chat E la persona che è o le persone che sono con me in hangout potranno cliccare Come sto facendo io in questo caso Verrà fuori direttamente un'altra finestra del browser Con la possibilità di andare a editare direttamente il documento Nel drive o nei documenti in questo caso In docs Vedi che qua sono in docs.google.com Questa è come funzionerà adesso la nuova condivisione di drive Aspetti positivi ed aspetti negativi di questa funzionalità Beh in primis l'aspetto positivo è che non abbiamo più un'applicazione esterna Ma il drive diventa veramente integrato all'interno degli hangout Quindi è più veloce, non bisogna caricare nulla Non è un'applicazione esterna da dover aggiungere semplicemente Quindi questo punto qua è totalmente a favore di questa nuova soluzione Non proprio a favore di questa soluzione Invece c'è il fatto che come avrei potuto notare Non essendo più all'interno del hangout Quando io ho bisogno di condividere un documento L'altra persona andrà a cliccare su una miniatura del documento E in questo caso qua Cliccando come è successo adesso Si apre una nuova finestra Un nuovo tab del browser Con il documento stesso Ora Questo secondo me non è totalmente positivo Perché ci sono persone che non sono abituate A avere questo cambio di finestre Quindi probabilmente sparendo la finestra del hangout Qualcuno potrebbe dire Oddio dove è finita Perché è già successo questa cosa qua Chi non è abbastanza smaliziato Potrebbe avere qualche difficoltà La seconda difficoltà è che io devo comunque uscire Dalla applicazione hangout in questo caso Per andare a modificare il mio file Quindi andare in una finestra esterna Ed è facile e quindi abbastanza comodo Se si hanno due monitor Quindi mettendo la seconda finestra aperta Quella con il file da condividere Tanto per intenderci Nel secondo monitor Uno si giosta tranquillamente con la scrittura nel secondo monitor E nell'altro continua l'hangout con la persona La cosa che non è ben chiara Per esempio a me non è chiara È che fine fanno le note condivise E gli schizzi Il blocco schizzi Insomma se io apro Ti faccio vedere Se io apro Google Drive Quando ho aggiungi Qui mi dà la possibilità di creare note condivise E creare blocco schizzi condiviso Creare note condivise è veramente Veramente una figata Perché all'interno del hangout Io stabilisco direttamente che voglio fare Una nuova nota condivisa Quindi mostro il mio in direzione email ai partecipanti Dico apri E in questo caso qua Dopo qualche istante Mi si apre l'editor All'interno dell'applicazione hangout In cui io posso scrivere Hangout di Google Plus Diamoci plus che ci piace Allora Questo file andrà registrato direttamente Nel mio drive Con il titolo note del hangout E la data E questa viene condiviso direttamente Con le persone che hanno fatto Hangout con me Questa funzione Come del resto anche Crea blocco schizzi condiviso Che è esattamente analogo Come tipo di funzionalità Ma chiaramente È relativo più alla condivisione di schizzi Quindi forme Posso fare delle frecce Insomma È una cosa nata per disegnare Mettiamola così Faccio qualche forma Cioè questo schizzo qua Che ho fatto Andrà nel mio drive Direttamente condiviso Con le persone che sono con me Nel hangout Queste due funzionalità Io non le vedo nel nuovo drive Secondo me sono veramente Veramente comode Qua io ho solo la possibilità Di condividere dei link Quindi io posso cercare All'interno del mio drive Delle cose Già Già fatte Mettiamola così Per esempio Blocco schizzi Del hangout Vedi che Vedi che c'è già Sia questo qua Che ho appena fatto Sia Le note del hangout Che è l'altro L'altro che ho appena fatto Sono già lì Nel mio drive Questa funzionalità Questa funzionalità Senza l'applicazione Google drive All'interno del hangout Sembra sparire Perché non mi sembra Di vedere da nessuna parte Un modo analogo Per condividere delle note All'interno del hangout Quindi per condividere un qualcosa Secondo me si dovrà fare Una trafila molto più lunga Ovvero si dovrà Secondo me fare una cosa Di questo tipo Allora siamo su Firefox Vado sulla Sul mio Drive Per esempio Drive .google.com Andrò su Nuovo Faccio Nuovo file Documenti di Google Quindi da qua Io scriverò Questa Questa è Una prova Vediamo Prova Prenderò La condivisione Dirò Documento Senza testo Mettiamoci Prova Salva Con un enorme Slancio Di Di genialità No L'ho chiamato Prova Comunque Ok Può modificare Invita Adesso è condiviso Con una persona Me lo dice Quindi io All'interno Della mia finestra Del hangout Adesso posso Condividerlo Vado a copiarmi Il link Lo inserisco qui Lo do come Link Ed ecco qui Che la persona Che mi è Che è assieme Con me Nel hangout Può andare A cliccare Sul link Quindi clicca sul link E si aprirà La finestra Come è successo Adesso Di conseguenza Condividere Degli appunti All'interno Del hangout Direttamente Diventa Un pochino Più Complicato Il consiglio Quindi potrebbe essere Quello di crearlo Prima Ma Al di là di quello Lo trovavo Veramente comodo All'interno Del hangout Perché è già successo Di fare delle riunioni Con Con dei collaboratori Ok Ah si Guarda Prendiamoci due appunti O facciamo Uno schizzo Bene Ci mettevamo lì E all'interno Della finestra Di google drive Dell'applicazione Google drive All'interno Degli hangout Scrivevamo O Facevamo i disegni Gli schemi Per quello che ci serviva Quindi dall'interno Era secondo me Molto molto comoda Adesso Non è più così Sicuramente google Avrà in mente Qualcos'altro Oppure una funzionalità A cui stanno lavorando Non lo so Ma siccome questa Che vi sto dando È una notizia Super fresca Perché è apparsa Dungo domenica L'altro ieri Per la prima volta In questo Negli hangout E ho detto Accidente Allora andiamo A dare subito notizia Ai miei Ai miei spettatori Quindi Sapete che da adesso Si farà Così per Per condividere Dei documenti In google drive All'interno Degli hangout Da Un certo punto di vista Quindi un'integrazione Ancora maggiore Con quello che sono Gli hangout Del resto Drive è una parte Veramente essenziale Di google Quindi è giusto Che sia integrata Con gli hangout E dall'altra Per il momento Un attimino Di difficoltà Comunque per il momento Ci sono entrambe Le strade Quindi scegli Quella che preferisci E divertiti Usando gli hangout E google drive Per il momento È tutto Ci sentiremo Prossimamente Per altre news Sugli hangout Qui Riccardo Romano Da Hangout Marketing Italia Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti